ciao barbie family e bentornati in un nuovo video cosa stai facendo simona cosa sta facendo io non ci vedo niente beh allora ho messo questi occhiali perché ho visto che il video che avevamo fatto agli inizi della che abbiamo intrapreso questo cammino del canale è andato super benissimo è piaciuto tantissimo quindi io voglio riproporvelo però allora in quel video c'era solo diego ma in questo è venuto anche il nostro caro amico stefano e te suona così non se suona e basta che fai loro con le ciucce lo blocca e no no allora c'è il nostro amico stefano vabbè lì ciao mi è piaciuta la puntata è ancora dispersi ma non lo dia a nessuno ma io sono qua di passaggio me sono teletrasportato non è vero perché la va bene niente allora e stefano e diego e se e diego ma non si mette a petto nudo ma insomma un po di riguardo ma qui ti guardi di là guarda che poi mi devi trovare un altro corpo se mi rompi ok dai ciao vai che presentiamo le persone allora qua con noi allora una volta ogni tanto tutte le barbie che si hanno ma basta ma basta bisogna lavarle quindi perché non usufruire del c'è gente ma mi rompe le scatole diego guarda dove sta diego sulla spalla digli qualcosa amore non ti va bene ma dai amore digli qualcosa per colpa tua va bene non volevo dire ma non sei leggero è poi questi piedi che mi puntano ok stavo dicendo che una volta ogni tanto bisogna lavare tutte le barbine che si hanno in casuccia perché non non dopo mi devi fare i capelli quando torno quando torno mi devi fare i capelli allora perché non posso uscire però non ce n'è i covidi non ce n'è non ce n'è i covidi non ce n'è non c'è niente non ce n'è i copitì allora perché non come si dice quando di approfittarne di questa dell'estate quindi allora guardate qua cosa abbiamo nella scatola abbiamo un po di raiatele perché erano qua in questa porta qua allora andiamo a presentare allora andiamo a presentare cosa c'è scusa vieni ciccia dai vediamo cosa dobbiamo lavare allora vengo io posso venire io ti do fastidio doveva cantare ma ormai non canta più perché c'è il tastino bloccato ormai qui no ce n'è un altro quando non abbiamo questo qua si può lavare quindi va nella vasca è quello di high school musical scusate no hai sbagliato no è lui è lui chi è scusa quello è un intruso non è high school musical giusto non è sempre lui senza musica sicura fa vedere ma è più brutto ma signor ma è più brutto lui è più bello ma fatti a fare i tuoi cioè lui sembra truccato questa è una barbie è ostrogota però è bella cioè aveva fatto la no prima gli dice che è ostrogota però è bella però è ostrogota no non è ostrogota però non lo so c'è qualcosa che non mi convince ma mi piace troppo però quindi non l'abbiamo messa in vendita perché mi piace troppo però c'è qualcosa che c'è qualcosa che non convince però non è a posto col cervello dice che è brutta però è stupenda no 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 è bella è bella è bella no non ce la fa lei è molto bella lei è molto bella è molto bella però ha il viso un po' non è vero non ce n'è i copidi è clac clac è tutta rigida e quindi c'è la ciocca viola abbiamo un'altra di questa versione si andiamo a lavarla poi andiamo a lavare la testona qua e lei aveva i capelli tutti rovinati e io ho dato un taglio ci hai dato un taglio e ai piedoni e ma quando me li fai che cammè ho dei capelli ma sei dottie azzardare sai allora lei loro di viso sono molto belle solo che hanno questi cavolo di piedoni d'Egitto e non ci stanno scarpe per loro sono delle tri 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 è qualcosa poi c'è lei che molto... gira 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 non vedo non vedo scusa adesso io mi mi sento mi trasformo in giada ok quindi qua ci sono tante di quelle bamboline ma volevo solo vedere e tu e tu se mi strappi i capelli ti faccio rasato a zero però ci sta potremmo fare delle capigliature quando è che si cambia un po hai odore di benzina quando è che cambia un po che dovranno usare ma ragazzi io volevo chiedere quando si cambia un po di capigliatura perché volevo magari un po rasato sui lati scusate è un po rasato sui lati ma basta non mettere i denti in testi strane ed è una cosa ma perché stavo dicendo ho mandato via diego stai giù buono ma che braccia molle aia mi hai fatto male ma io voglio ma basta zada allora prometto che non guardo parlo soltanto con lo scherzo ti suono con la faccia eh parlo soltanto con me fruto to to diego fruto cosa gli dai tutti insieme o due ma dove erano quelli che ti riportate dentro quando l'incorso a lei ah li lasciati fuori si è diventati sassi la tre sali grazie ok lei è bellissima guardate che viso c'è dei capelli lunghi lunghi ha un po le braccia che lei non aveva il move però guardate eh guardate lei non mi sa che non aveva il move ok va a lavarsi lei è una nicole giovane giovane quando prima giovane 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 fuori glass allora eh ha la ciocca viola guardate che bella beh molto 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 bella ma basta diego ma insomma cosa ridi ma volevo solo parlare parla dopo ho la ciocca viola via ho la ciocca viola via prometto che sto nel lato senza parlare no prometti che giri la testa così ho forse ho girato un po troppo lei è una stesi bella anni novanta ed è il set quello di natale ma ci sembra il modo insomma molto molto bella quindi a lavare poi abbiamo lei che è di un film preferito piemerito l'ho usato simona per abbalsamare tutti e l'ho lasciato fuori con la piatta no l'ho tirato fuori stamattina l'ho usato stamattina non era il suo corpo è un altro corpo che ha perché lei ha le ali e abbiamo cambiato il corpo quindi poi abbiamo lei che è molto non mi ricordo di chi era è molto capellona è molto è nana non è nana no ha un po' le garme che fanno anche loro Giacomo Giacomo insomma però è molto bella ma aspetta guarda ha acquistato la sua forma si puoi vedere più o meno è tutta storta è tutta storta poi abbiamo lei che avevamo combato sul corpo ma poi mi ha stufato solo che poi lei si è stufata boom è così bella eh aveva troppo la faccia la faccia troppo grossa come in front cioè aveva troppo la faccia rossa comunque mi piace e vabbè l'abbiamo messa su questo qua poi c'è lei che a me piace a me piace però a lei non mi piace cioè non è che non mi piace però secondo me su Mad è un po' sprecato ehm visto che i Mad non sono come l'acqua quindi abbiamo messo provvisorio in questo corpo che è di Nuskipper e in attesa di trovargli un corpo decente normale perché non è il suo corpo cioè dei capelli lunghissimi bellissima ok ok poi laviamo anche questa bambolina della oh 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 della famiglia cuore oh oh ok poi c'è lei che è di non mi ricordo chi è boh ah sì ah no 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 sì no 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 boh non mi ricordo oh sì o no eh se non me lo ricordo forse no 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 vabbè comunque che troppo indietro con no 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 non è quello del che sta nel set con Skipper no 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 sto sbagliando sto sbagliando ha degli occhiali ancora attaccati e quindi è nuova non è mai stata giocata sto sono ciò ai vestiti via a lavare poi lei è bellissimissimissima solo che devo sistemarla lavarla e sistemarla aveva tutta boccolosa era guardate che bella il viso e le ho fatto un rerotte ma parziale gli ho messo delle ciocche poi devo finirla perché devo tagliarli insieme agli altri capelli e fargli un taglio però è molto molto lei era boccolosa bellissima e guardate le orecchie poi andammo avanti questa no questa non si può lavare perché non si deve lavare è una principessa questa è una principessa spostati c'è motto e c'è la mano che si illumina c'è la mano che si illumina ma non si illumina ma non si illumina mentre vi appoggiavi il litro si allumina allora io mi ricordo posso spiegare posso posso raccontare una cosa è un aneddoto no no si la racconti allora praticamente questa qui questa Barbie qui io all'inizio quando non esisteva ancora come Diego Fontana gli tenevo la mano ah si? si ok allora poi abbiamo lei molto molto bella molto bella si può riuscire a vedere anche poi abbiamo una Chelsea molto bella abbiamo un'altra Chelsea molto molto bella con la frangetta guardate che carina bello poi abbiamo poi abbiamo lui che vediamo la sciacquata ok poi c'è lui di High School Musical che è il piede storto c'è il piede storto cioè un po' stridista ok adesso sono poi c'è lui che lei era la mia di quando ero piccola devo staccargli il vestito però vabbè mi mancano un po' di cape questa è la mia è la Baywatch di quando ero piccola io ho fatto un vestito cucito addosso che era faceva interpretava in un contest Bezzy Istinkt non mi ricordo come si chiama poi abbiamo una testa necco abbiamo una testa era montata sul combo lei era montata sul combo ma l'abbiamo staccato abbiamo un'altra testa poi abbiamo un Tommy da lavare sembro io da piccolo oh c'è una vestitina oh non credo poi ci sono delle scoffette abbiamo un'altra Chelsea e lei devo spogliarla letteralmente è una ha proprio questo vestito qua ah perché fino adesso cosa hai guardato? le banane che passano ma guarda ah 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 scusa ah ok lei si ma non la metterla troppo avanti se io mi giro poi poi abbiamo lei che ah lei è della Pink Family io la usavo sempre oh c'è un bracciale la serie Pink l'albi Pink della serie Pink non Family ho sbagliato senza Family serie Pink senza Family era quella con la specchiera quella con la specchiera e il vestito rosa pua molto molto bello pua pua la usavo io quando giocavamo l'ho usata sempre io bellissi completi ma ti piace il nostro completo? si ah scusa scuoccavo il vestito ok via ce l'hai poi invece abbiamo il principe che non mi ricordo di cos'è però vabbè è un principe eh non mi ricordo più vabbè lo spoglio dopo e poi abbiamo le principesse che non si possono spostati ahia ah che forse vanno ancora eh non ti sposti si vanno ahia che male mamma mia come si è suonata ragazzi e abbiamo questo Ken che ancora è alla corona attaccata sono tutti impolverati adesso andiamo a sfogliare i due Ken e andiamo adesso ci mettiamo sul tappeto dell'erba e del mio rientro ahah adesso farò una bella doccia a Diego ahah non è vero stop 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 l'illuminazione c'è ok pompa telefono e i miei piedi grazie allora sto usando il detersivo dei panni l'anno scorso no l'anno scorso cavolo dico due tre quattro abbiamo usato cinque abbiamo usato benissimo il telefono così mi sono lavato visto che puzzavo abbiamo usato quello dei piatti ok andiamo a mettere mille ma mi bagno questo cioè sequesia lalalalalalalalala lalalalala si ma è stato forte questo gesto è che è successo qua non c'è più Diego per favore è venuto qui ma che c'è fai là dietro Diego che c'hai là Diego ti vede sapone è buono che fai scappi no non bagnami vale no non bagnami no non bagnami dai dai eh ma come sono no non bagnami vale mi prego sto freddo cazzo cosa fai dici le parolacce devo mettere il bip venite inza dammi il piede dammi lunghi del piede come venite a freddo cosa stai facendo ma cosa stai facendo ma insomma come sta freddo stai mi addosso oh mi potessi alzare vieni passare allora perché lo abbiamo tutto bene aiuto Stefano 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 oh che succede oh te vedo più ma che ma che casino che c'è là dentro ma che c'è 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 il condominio dentro che c'è da fare la riunione che schifo che puzza madonna mia ma profumo ma madonna ma aiuto oh Diego ma io vedo piedi gambe oh qua ricordo ma che bello stare qua dentro è certo che bello ma che sporcaccione guarda che se te vede ma io mi sto solo lavando e questo ma per favore oh che sta a fare a sporcaccione stanno i pantaloni oh allora domani va finito allora mi raccomando non usate shampoo perché sono fibra sintetica quindi si vanno a rovinare ora o sapone dei piatti o detersivo dei panni potete usare il sgrassatore quello che volete voi ora si va a sciacquare tutto e quindi mi devi sciacquare pure a me sciacca tutto la nonna scappa no non scappare no ma non viene la sciacquare le tue per bene sciacquare le tue per bene guarda che si copre la nonna guarda la nonna che si copre guarda la nonna che si copre cosa fai qui ti bagno la nonna è muta cosa fai selfie guarda che si fai selfie si fai selfie e papà luca è nascosto dietro il bunga bunga cucù va bene andiamo a guardare ancora qua grazie è massa ho subito di acqua c'è ancora un brissimo mi faccia se vuoi sempre vicino ai panni che si gratta che si fai si si è messo stavo riprendendo già ah ok allora ora ho risciato allora adesso sciacquiamo tutta una a uno bene e le rimettiamo nella basinella ok simona ok 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 aspettiamo che si chiama mette un'altra cosa che mi ricordo come si chiama che si chiama si è un profumo aia aia ma io dico puoi fare più ancora tu ancora tu pizza che sei è proprio un guarda stefano che bravo bambino che ha paura di nicole tu mi sa che andai di già non hai paura ma non ti puoi lavare in un secondo momento no perché devo aspettare ancora giorni e giorni e giorni e giorni e giorni e giorni ti prendi ti prendi ti prendi adesso come ti puoi fare frutta? no ahahahahah e scappa va bene allora una volta che le abbiamo sciacquate riempiamo e mettiamo l'ammorbidente mi raccomando ammorbidente e l'ammorbidente cosa che fa? allora non rovina la fibra del capello perché a lungo andare se usate il balsamo non saranno rovinati oggi non saranno rovinati domani ma prima o poi si rovineranno perché è una fibra è finta non sono capelli veri quindi da tali bisogna usare quindi avrò un ciu cu perfetto giusto? allora riempiamo l'acqua intanto mettiamo io uso questo qua è del discount dell'emd posso entrare? e frutti rossi guarda che ti faccio è concentrato fammi usare buon odore aspetta che mi metto dentro i dentilli rossi e mettiamo dentro e poi mettiamo l'acqua scusa non si sa mai aspetta che ti metto un po' di deodorante profuma di orchidea adesso e orchidea e frutti rossi va bene Diego ma buttiamola anche un po' in testa ah si che bello ah ah eeeh non c'è problema aiuto ok mettiamo ah che bello rilassante rilassante però vabbè l'ha già usato eh ragazzi non è che l'ho finito qua perché rilassante rilassante poi prendiamo una spazzola e iniziamo un po' a spazzolarle tutte una volta che abbiamo rilassunto le dobbiamo lasciare ma quindi poi mi devo rilavare le lasciamo un po' a mollo no io però non sto a mollo eh le spazzoliamo un po' a mollo perché l'ammorbidente così ammorbidisce tutto il capello e poi via me l'hai buttato giù le andiamo a pettinare pettinare ma insomma ma che sta a fare ma questo ma io non lo so ma ragazzi ma ditele qualcosa voi ma io io non ho più parole c'è un buco del naso bianco Stefano ma che sta a dire ma ma che vuoi tu hai il buco del naso bianco ma che dici che cos'è un capperotto vabbè comunque devi aver capperotto che ma che sta a fare a ragazzi io io non me la canto eh se ve la volete canta a voi fate pure ma io non gli dico niente a Giada perché se no qua dobbiamo stare altro che dispersi qua ci non ritorniamo più quindi altro che bunga bunga faremo bunga bunga vita quindi io io mi defilo io non pensavo che stava qua a far broccolo a broccolo andiamo su ma io mi sto lavando ma basta ma io non so ma te sei già lavato e basta lavarti ma l'ammorbidente ha detto che ha messo quindi che non rovina il cappello dovresti lavarti anche tu con l'ammorbidente marci marci e la porta chiudi ma se non è che si alzi ma vedi allora andiamo avanti a pettinarle tutte e le lasciamo in ammollo dov'è la valli? prende l'acqua prende l'acqua prende l'acqua aspetta aspetta c'è una cosa c'è una cosa ci vuole vedere? districa si troverete un po' sulla spazzola ma non vi spaventate non vi spaventate assolutamente però guardate come si districano bene ma dove va? ah no no ma dove vai? ma scappa vabbè comunque stavo dicendo guardate come si districano bene i capelli con l'ammorbidente e poi profuma da matti questo mi piace troppo a stavolidente mi piace assai una volta che sono stati un pochettino andiamo a levare tutto allora in pratica si sciacquano i capelli però volevo fare la prova a non sciacquarli e lasciarli così con acqua ammorbidente su volevo fare proprio la prova vedere com'è il capello se appesantisce il capello perché alcuni dicono che la morbidente appesantisce ma a me non è mai successo allora volevo proprio provare ora andiamo a levare tutte le nostre barbine e rovesciare l'acqua ok dai diego ma almeno c'è almeno aiutami come faccio aiutarti vieni qui dammi ma per favore che sei dai ok ok è venuto e va bene un po di 6 si ci sono ok una volta che l'avete tolto l'acqua un'ultima pettinatina non le mettete ad asciugare e le mettete così a scolare fino a completamento e domani tanto comunque sia la mattina e la sera anche sì quando si asciugano all'aria non usate il phon mi raccomando ragazzi se no andate a bruciare tutti i capellini belli delle barbie non lo so e non me ne non voglio rovinare quindi un'altra pettinatina l'ultima guarda questa era quella di prima che era tutta scommessa scombinata guardate l'ammorbidente come domani a domani ormai perché sera non si asciugheranno più entro sera quindi domani vedremo l'effetto le lascio qua fuori tutta la notte e vedremo domani l'effetto sono asciugate e vedremo domani l'effetto del mio ciuffo morbido ancora sì anche se non è stata pettinata guardate profumerò non è stata pettinata è stata dimenticata sotto sotto che bello ma quindi allora io sarò il disperso profumato no perché tanto dopo ti sporco ti faccio puzzare ma come mi sporco sì mi butterò nel frango sì sì che fai peppa pig sì sì tu hai iniziato hai iniziato e avverti quando fai non sente dolore oggi va beh amici siamo nel giorno dopo perché abbiamo dovuto far asciugare nella bacinella Le barbie, anche se alcune sono cadute nelle bacinelle e non si sono asciugate, anzi, sono bagnate, sono rimane bagnate, quindi sono qua sul tavolo. Comunque vi volevo far vedere, guardate qua, qua, ok, guardate i capelli come sono venuti bene, sono molto morbidi e non appesantiti niente, guardate. Vi ricordavate prima? Se non vi ricordate mandate indietro un video e vi faccio vedere come erano tutte le barbie prima, guardate questa che era un mamma mia, poi che vi posso fare, questa era un, guardate che belli morbidi, guardate, wow, lei, lei mamma mia, guarda che morbidi, che profumatissimi. Che vi posso far vedere lei, insomma, ma sono tutte così, guardate lei come, come sono morbidi, guardate, wow, wow, ragazzi, wow. Lei si è pucciata un pezzettino qua, guardate, un po' bagnata, però il resto, guardate, morbido, 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 morbido. Poi c'è lei, guardate che belli, molto, e non sono pesanti, sono belli morbidi, veramente, veramente, sono venuti veramente bene, mi piace come sono venuti, l'ammorbidente con il detersivo dei panni. E non li ho risciacquati dall'ammorbidente, loro, perché tanto era diluito l'ammorbidente nell'acqua, quindi, non, così, così, e li ho lasciati su, e sono venuti una meraviglia. Quindi, niente shampoo e niente balsamo, niente cremine varie, cristalli liquidi, schifezzine varie, per loro, no, non va bene per noi, sono capelli finti, ragazzi. Quindi, dillo pure tu, capito, sono capelli finti, mi raccomando, ok, anche Ken, io vi ho fatto vedere il risultato, ma se io non guardo, eh, io non guardo, metto la mano davanti, no, 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 ho guardato, eh, stati zitto, hai capito? Ma perché? Ma che fai, guardi, azzuzione, oh, ah, nonna, nonna, Diego non sozzone, eh, confermi? Sì, sì, ha detto sia, ma che cosa? Ma se io non so, ma che guardi, Giada, dove stai Giada, Giada? Ma che cosa? Oh, ma ci sono tutte le tonzele coi zizzi di fuori, ma coprite gli occhi, non guardare, non guardare, non guardare, io non guardo, eh, io, 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 Ma insomma Io me ne vado, che stai a fa'? Ma che, che, che stai a fa'? Oh, non vedi questo? Andiamo, se ne va, andiamo, andiamo, andiamo a cercare mangiare, va, andiamo Ma che mangiare? Ah, 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 sì, vero Certo, ma te stai a dimenticare, certo, con tutte le tonzele, ma io lo dico Giada, ah, 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 ciao ragazzi Hai detto che non lo dicevi No, io lo dico, ah, 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 ciao ragazzi Al prossimo video, ah, mi raccomando, mettete like, eh E iscrivetevi al canale, eh Andiamo, muovete Bene amici, allora, il risultato l'avete visto E spero vi sia piaciuto E come dice Stefano, mettete like, iscrivetevi al canale E se potete condividete i video Abbiamo aspettato un giorno per terminare questo video Bene, ci vediamo al prossimo video